Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi nuovissimo video, svuota la spesa Eurospin. Allora, vi avevo già anticipato appunto questa spesa perché sono andata al primo giorno del volantino, avevo preso un po' di cose, c'è tutto quello che non dovevo mettere in frigo praticamente, perché dovevo andare a lavoro, invece oggi sono andata all'uscita da lavoro e quindi ho preso un po' di cose da mettere in frigo e in freezer. Cominciamo con le cose da frigo, allora per il frigo, vabbè, come frutto e verdura ho preso i pomodorini datterini, che questi sono i miei preferiti, li prendo sempre, è una confezione da 500 grammi e sono di origine Italia, sono siciliani proprio, erano a 1,29 euro, non in offerta comunque il classico prezzo. Poi ho finalmente ritrovato i cavolini di Bruxelles, che non trovavo da tantissimo, è una confezione da 350 grammi, origine Olanda, ma penso che appunto se sono di Bruxelles si siano olandesi, cioè non so se c'è mai stata comunque origine Italia, però mi piacevano, cioè mi piacciono tantissimo, li avevo evitati all'inizio dell'allattamento perché so che cavo il fiore, cipolla, io queste cose sono un po' troppo forti, poi non le ho trovate più e adesso vabbè, ho detto vabbè, li prendo, li ho trovati a me piacciono fatti al vapore, nel bimbi, nella vaporiera, e poi ho preso la classica iceberg a 79 centesimi. Per quanto riguarda i surgelati, che avevo già messo in frigo, ho pranzato, a proposito, ho pranzato con un'insalata che non lo so adesso come si chiama, non ricordo perché ho già buttato la confezione, comunque di quelle già pronte, aveva il mais, allora intanto è lattuga normale, radicchio, rucola, poi c'era una vaschettina piccola col mais, con le noci e un pomodoro, uno, un pomodoro, comunque devo dire molto buona, io l'ho condita solo con un goccino di aromat e un goccino d'olio e qualche scaglia di parmigiano, devo dire buonissima, quindi un pranzo super veloce, allora ho preso a Mario i bocconcini di pollo perché li ho trovati in offerta, naturalmente nel volantino questa offerta non è presente, ma non mi soffermo alla polemica che già avete sentito nei video precedenti, comunque a proposito una ragazza, una di voi mi aveva fatto notare, dice magari forse può essere che sono nei ribassati del mese, e in effetti ho detto sì può essere, invece ho controllato i volantini, no alcuni prodotti non ci sono né nei ribassati né nei volantini, non so dove sono, comunque quando ho il tempo di fare il giro trovo appunto degli altri prodotti scontati, comunque quindi bastoncini di pollo 300 grammi surgelati, colline della bontà a me non piacciono molto perché mi sento tanto aglio, un retrogusto di aglio quindi non mi piace, poi ho voluto prendere questa, allora questa l'ho presa anche l'altra volta, ma mi sa che non ve l'avevo fatta vedere, è una piccola porzione, quindi 240 grammi, però vi assicuro che è veramente piccolina, di più stelle e patatine, e io invece per me l'ho presa pizza integrale, pomodoro, rugole e ciliegino, e appunto la volevo provare, questa è 225, quindi ancora più leggera, era in offerta a 1,49€ e quindi ho voluto prenderle, naturalmente sono messe già in freezer perché io non ho posto e quindi ora questi li vado a buttare. Come carne, che era tantissimo che non la prendevo, ho preso questo petto di pollo, e sono 399 grammi a 2,78€, io questo stavolta l'ho preso intero e non ho fettine perché lo taglio a tocchettini e ci faccio il pollo, diamo pollo al curry, ma in realtà metto un po' tutte le spezie, la paprika, la curcuma, cioè viene veramente buonissimo, buonissimo, poi leggero, veloce, buono, e poi ho preso questi che sono i fusi di pollo, erano scontati del 30%, quindi 2,25€, se non sbaglio hanno tolto 68 centesimi, io anche questi, comunque come questo, li andrò a congelare perché li utilizzo per un giorno in cui io sono libera e non torno da lavoro, perché sennò mangiamo tipo alle 10 o alle 11, quindi li vado a congelare, allora qui ci sono i famosissimi prodotti da frigo che avevo visto l'altro giorno e che volevo prendere e appunto non ho preso, quindi questi speravo tantissimo di trovarli, sono i mini burri e allora naturalmente a parità di prezzo non conviene, però siccome noi ne utilizziamo veramente, veramente poco burro ho deciso di prendere questo qui a tocchettini a scadenza dicembre e appunto Mario magari lo utilizza quando si fa i suoi risotti, quando è da solo, ecco magari si prende uno di questo e me lo usa erano 99 centesimi e sono 100 grammi, 10 panetti da 10 grammi poi ho preso un pesto al basilico senza aglio, la linea dell'istia del sole, questo quando è in offerta lo prendo sempre 85 centesimi, molto buono, questi speravo di trovarli, infatti erano le ultime due confezioni e l'ho preso uno per me e uno per la mia collega, per la bimba della mia collega e sono dei pancake, appunto sono 6 pancake pronti da scaldare avevo già preso quelli della Lidl tempo fa, li ho visti, mi sono trovata bene, erano buoni ho detto ma si prendiamoli anche di questi tre mulini 1 euro e 39, 300 grammi poi l'emmental a julienne, io questo lo amo e lo adoro letteralmente non lo fanno sempre, però quando lo trovo in offerta, tipo stavolta l'ho preso cioè non in offerta, scusate, quando lo trovo, perché appunto nelle edizioni limitate 200 grammi, 1 euro e 49 poi ho preso 2 di arrosto di tacchino affettato, era in offerta a 95 centesimi poi ho preso gli yogurt, questi qua i bifidus avena e noci e cereali e bianco bianco e cereali, sono le due linee con fibre, io li utilizzo, li mangio a merenda appunto prima di andare al lavoro, uno yogurt di questo e poi si passa direttamente alla cena in offerta a 55 centesimi e a, mi sto facendo venire il mal di mare praticamente hanno inserito di questa linea, quelli lì ad 8 che prendo sempre io che hanno anche i kiwi e fibre, adesso non ricordo pera e cereali e kiwi e cereali li hanno inseriti nella linea permanente quindi super comodi perché i kiwi e pera sono veramente buoni e poi ho preso questi milk snack al cacao quindi simil kinder pinguì e simil kinder fetta al latte per Mario e questa è una confezione da 4, mentre questa invece è una confezione da 5 e hanno lo stesso prezzo di 79 centesimi poi invece passiamo alle cosine dolci ho preso altre due confezioni di muesli così sono a quota 6 praticamente però fino alla prossima offerta doveva essere a posto ed era un'offerta a 1,49 euro poi ho preso questo frutta più pesca e mango che l'altra volta non avevo preso poi ne ho parlato di nuovo con Chiara su Instagram Chiara Makeup e mi ha detto prendilo quando vai perché è buonissimo lei l'ha preso pure ma non l'avevo assaggiato comunque ok l'ho preso c'era anche, questo è pesca e mango c'era anche cocco e ananas e sempre con quello con un goccino di latte 85 centesimi poi c'erano questi succhini da 6 della Puerto Sol la linea Ace a 1,29 euro se non sbaglio no scusate 69 centesimi questi poi c'erano le barrette cereali queste qua forse non le ho mai prese della Dolciando sono mandorle e mirtilli rossi un tipo e nocciole e cioccolato l'altro sono tre barrette ed erano a 1,49 euro non ricordo se fossero in offerta credo di no poi c'erano invece in offerta i frollini cacao e nocciole che li ho presi per fare un dolce e il pacco quello grande grande da 700 grammi ed era in offerta a 1,29 euro poi ho preso i sbarazzini a 1,29 euro e infine ho preso la marmellata di albicocca che non prendevo da tantissimo tempo ma visto che l'altra volta ho preso quelle fette biscottate adesso ho trovato i mini burri ho detto qualche volta posso fare anche colazione con questa comunque 370 grammi in offerta a 85 centesimi poi passiamo al reparto salato allora ho preso questi che sono i cracker pomodoro e parmigiano senza lì di palma sono i classici che prendo per Mario una confezione da 250 grammi hanno cambiato perché anziché essere il classico cracker che si spezza a metà praticamente a 2 invece a 3 anche questo naturalmente era fuori fuori volantino quindi era in promozione ma fuori volantino ed erano a 89 centesimi poi ho preso una confezione di panna da cucina questa l'ho presa più per emergenza perché l'avevo usata ma non mi ricordavo se ne avessi altre in casa e quindi l'ho voluta prendere fuori fuori volantino ragazzi non riesco a parlare poi ketchup questo qui anche questo è stato un'emergenza perché Mario si gli piace però magari ne preferisce altri però per emergenza era completamente senza l'ho preso ed era in offerta a 89 centesimi pesti, peperoni, ricotte, ricotte e noci le avevo presi anche l'altra volta in offerta a 79 centesimi ma guardando lo scontrino mi sono stati battuti a 89 ma amen 10 centesimi non succede nulla poi ho preso i panini per hamburger questi qua appunto li ho presi per Mario perché li aveva finiti e lui assolutissimamente li deve avere sempre ah, dimenticavo che la panna da cucina era a 59 centesimi appunto fuori offerta e cos'altro vi dovevo dire il panini per hamburger 79 centesimi e poi ho preso l'american sandwich un'altra confezione anche se l'avevo presa l'altra volta però questo qui c'è la penna questo sarà scontato per tutto il mese e quindi l'ho preso a 79 centesimi e in più ho preso una confezione di uova fresche queste qui erano pure no, non erano in offerta penso che le uova siano comunque il prezzo normale non penso che faccia un'offerta sulle uova adesso non so sono 6 uova grandi a 1,15 euro allora poi ho preso le birre mi l'ho dimenticata di farvele vedere tutto il cartone da 18 birre sono già in frigo 35 centesimi a lattina poi ho preso questo deodorante con cui Mario si sta trovando veramente benissimo quindi anziché il DAV gli sto prendendo questo non ha alcol dura 48 ore con l'estratto di avocado non so se mette a fuoco mi avvicino io con l'estratto di avocado devo dire che un paio di volte l'ho utilizzato anche io e non è niente male 1,79 euro poi ho preso uno di cotone questo per il cambio pannolino di Thomas e infine con 1 euro mi hanno omaggiato questo che è un asciugacapelli con manico pieghevole da 2200 watt asciugatura rapida 2 velocità 3 livelli di temperatura con colpo di aria fredda è 30 centimetri cioè 30 centimetri ed è pieghevole adesso lo apriamo insieme eccolo qui allora questo è il fondo devo dire che è abbastanza grande cioè guardate questa è la mia mano quindi è abbastanza grande ed è pieghevole appunto io non so adesso se con una mano riesco ok a farvi vedere quindi così appunto questa è la mia mano quindi è abbastanza grande ha il beccuccio e niente quindi questo è il fondo devo dire che mi piace sembra veramente molto carino qui ci sono le velocità le temperature e tutto lo proverò e vi farò sapere dico per 1 euro come dice Elisabetta neanche a lasciarlo lì io vi mando un bacio grandissimo vi ringrazio per aver guardato il video e noi come sempre se vi faccio ci vediamo al prossimo video ciao ciao